Siamo arrivati alla fine, è quello che volevamo, arrivare all'ultima giornata e essere davanti. Sappiamo che mancano 90 minuti, abbiamo fatto 99, manca l'ultimo scalino che è quello più importante. Dovremmo rimanere calmi, tranquilli perché ci giochiamo una competizione inaspettata, impensabile, quindi dobbiamo essere solamente contenti e orgogliosi del lavoro svolto. Ci saranno 90 minuti, dobbiamo essere tranquilli, sereni, preparare bene questa partita, avremo tanto entusiasmo dietro i nostri tifosi, ci saranno tutti gli ingredienti per poter far bene. Siamo lì tutti insieme, ci arroteremo fino alla fine, sappiamo benissimo che non era facile, però stare lì insieme con le grandi squadre per noi è veramente qualcosa di eccezionale. Il gol che abbiamo preso l'abbiamo rivisto, siamo stati anche un po' sfortunati perché c'è stato questo cross quasi fuori, la palla, è passata proprio in mezzo alle gambe di gollo. D'altronte però non bisogna guardare indietro, abbiamo pareggiato, va bene così, siamo davanti di un punto dal Milan e alla fine vedremo un po' chi la scamperà. Con queste squadre se non le aggredisci, non corri, non provi a rischiare anche in fase offensiva qualcosa, fa fatica perché a livello tecnico sono molto più forti, come a livello di singoli, a livello di squadra, e quindi sappiamo benissimo la loro forza, noi ci abbiamo messo di tutto e di più per poterli fermare, ci siamo riusciti, anche rischiando qualcosa perché è impensabile che la Juve non crei una o due occasioni, quindi va bene così. Quando un giocatore come Andrea smette dispiace un po' a tutti, sono scelte dolorose, però alla fine ha dato tanto alla Nazionale, ha dato tanto alla Juve, è sempre stato un difensore di tutto rispetto, ha dimostrato negli anni grande serietà, grande attaccamento alla maglia e quindi si è meritato veramente un'accoglienza così speciale per lui.